angelo ricco di conforto dormivi con l'orsacchiotto e molti a dire che eri infantile avevi fatto il sopralluogo e molti a dire che avevi programmato il rapimento nessuno a dire che la tua coscienza era desolata mai un rispetto per giulia quell'angelo ricco di conforto andavi ospite accetto nella sua casa ma la tua bassa coscienza la divorava da lei volevi solo ricovero pensavi di ucciderti ma non avevi il coraggio di farlo ordinavi a giulia di non lavarearsi prima di te vagavi d'intorno a lei che aveva scelto di amare chi è alle prime incarnazioni umane